Gamma Innovation Hockey Sarzana a Correggio provincia di Reggio Emilia per lasciarsi alle spalle quel 5 a 2 subito al polivalente sarzanese da Follonica rivelatasi con pagine veramente forte e dire che con una doppietta di John Galbas i rossoneri conducevano per 2 a 0. A Correggio Serie D X è la piazza dove l'attuale mister dei rossoneri ha portato la squadra in Serie A1 e Ivi l'ha salvata per due anni di fila dalla retrocessione. E' la piazza inoltre Reggio Emilia dove ha fatto esperienza il promettentissimo Ernest Cinquini oggi nei ranghi sarzanesi. E' la piazza Reggio Emilia dove tuttora si trovano due ex dell'Hockey Sarzana che sono Fantozzi e il Cileno Osorio. Dopo il Gamma Innovation intraprenderà la sua avventura nell'Eurolega quella che nell'Hockey su pista è in pratica la Champions League che conosciamo nel calcio impegno a Cutra in Francia teoricamente agevole. Poi di nuovo campionato a metà della settimana prossima con ritorno al Paraterzi per affrontare niente meno che il Forte dei Marmi. La partita di sabato con il Follonica è stata una partita giocata tra due squadre equilibrate. Dispiace per la sconfitta perché comunque ce la possiamo giocare tranquillamente anche contro qualunque squadra e quindi anche contro il Follonica. Abbiamo peccato probabilmente un po' di furbizie e di intelligenza in alcune fasi della partita importanti. mercoledì a Correggio abbiamo subito la possibilità di reagire e di vincere laggiù e poi sabato abbiamo l'Eurolega con la Coppa Europea che ci può dare quella spinta in più per tornare in carreggiata come inizio di campionato.